Il campione uscente di tennis Novak Djokovic è stato eliminato al secondo turno dal torneo ATP Masters 1000 di Monte Carlo. Il serbo numero uno del mondo e prima testa di serie è stato battuto dal ceco Viri Veseli numero 55 dal ranking ATP con il punteggio di 6 a 4, 2 a 6, 6 a 4 in ben 120 minuti e più 6 minuti di gioco. Raffaele Nadal si qualifica agli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Monte Carlo, lo spagnolo numero 5 del mondo del ceiling, abbottuto infatti lo sloveno naturalizzato brisannico Arias Bedene numero 60 dal ranking ATP con un punteggio di 6 a 3. E se a 3 in 1 ora e 20 minuti di gioco Nadal vincitore 8 volte consecutivi del Principato dal 2005 al 2012 affronterà, vi ricordo, agli ottavi l'osseto Doni XTM, 14 numero e 12 del tabellone. Grazie di vivo cuore per l'ascolto, grazie di vivo cuore per la visione, complimenti comunque a tutti i tecnici che ho citato, a partire da Dioprovic fino ad arrivare a Nadal, tutti i tecnici che apprezzo e che ambito tanto. Un saluto, a presto e grazie. Grazie a tutti.